In fondo le città sono come le persone, hanno un corpo fatto dalle case, dalle strade, dalle piazze e hanno un'anima fatta dagli abitanti, dalle loro abitudini, le loro tradizioni. Queste cose tutte insieme fanno l'identità di un luogo. E qual è l'identità di Radispoli? Lo svela lo scrittore, medico, nonché il sindaco di Radispoli, Crescenzo Pagliotta, che ha realizzato per la casa editrice Altre Edizioni 400 pagine sulla sua città. Un viaggio nella storia di Radispoli con immagini e racconti che spaziano tra Caravaggio e Bambitelli, da D'Annunzio a Rossellini. È un'edizione, la seconda, riveduta ed ampliata. Sì, è una riedizione di un libro già edito, però ci sono tantissimi motivi per rileggere questa nuova edizione. Ci sono sei capitoli in più, ci sono tante novità, perché questo è un territorio ricco di novità, di scoperte, come un magnifico quadro del 1700 che rappresenta il castello e il borgo di Palo, che non sapevamo nemmeno che esistesse, ed è al castello di Bracciano, e da qui ho tratto la copertina. Novità come l'articolo di Gabriele D'Annunzio che annuncia che sta per nascere una nuova città, si chiamerà Radispoli, con il tono così tutto aulico di Gabriele D'Annunzio. Ci sono le novità che sono cose antichissime che però scavando per fare opere pubbliche sono venute fuori, quindi gli rinvenimenti di un villaggio dell'età del bronzo, di una strada etrusca nella zona agricola di Radispoli. Quindi una città, come abbiamo detto qualche volta, nuova dal cuore antico, e ogni volta che si scava si trova qualcosa di antico, ogni volta che si va a cercare nei libri si vede che questo è stato un territorio importantissimo, e quindi penso così un piccolo contributo alla conoscenza di un territorio che tutti amiamo. Correndo il libro quello che si percepisce è la passione che lei nutre verso la sua città. Io penso che ognuno dovrebbe amare il luogo dove abita, qualunque esso sia, perché i luoghi raccontano, noi dobbiamo sapere interpretare, raccontano quello che c'è stato, quello che c'è tuttora, l'umanità che ci vive e quella che ci è vissuta. E quindi io sono profondamente legato a questa terra, come penso gli abitanti di Radispoli venuti qui da tante parti del mondo. Le mie origini vengono dalla Ciociaria, da Cassino, Frosinone, però poi sono nato a Roma, poi sono cresciuto qui, quindi sono il tipico caso di chi le radici le sta creando, se le sta formando, certo, gli anni hanno passati tanti, ma sono uno di quegli italiani che ha cambiato luogo, dalla provenienza dei propri genitori, dei propri antenati, al luogo di nascita, al luogo dove siamo cresciuti. Radispoli è fatta così, è fatta da tante tante persone, venute da tante parti del mondo, e la radice comune è questo, intanto conoscersi reciprocamente, rispettarsi reciprocamente, ma anche conoscere il luogo dove abbiamo scelto di vivere per sempre. Ma com'era da bambino l'attuale sindaco? Si interessava un po' a tutto, qualunque cosa, io i primi anni siamo stati a Roma, lo portavo sempre con me, e lui era preso, interessato di tutto, insomma delle cose, sul tram, una volta, diceva papà ma perché ci sono tutti questi posti? E perché ognuno quando sale si mette al posto suo. In un altro momento siamo saliti sopra, era tutto affollato, diceva papà ma è il posto mio? Eh, posto tuo, non è segnato proprio che tu oggi sei occupato da altri, è pazienza, ha fatto sempre con tutte le forze sue, senza che nessuno l'avesse aiutato, la vita, sempre da solo. Io l'ho aiutato con i soldi, la madre l'ha aiutato con il vitto, ma per lo studio è fatto sempre da solo. Cosa vorrebbe scrivere nella prima pagina del suo prossimo libro? Nella prima pagina del prossimo libro, siccome parleremo di, parleremo se riuscirò a farlo, questo secondo libro, di cinema, del grande cinema passato per la Dispoli, che la Dispoli è stato anche un grande, siamo stati un grande set cinematografico, e si sa che i set vengono portati in luoghi belli, riscopriamo la bellezza di questi luoghi, perché se qui hanno fatto correre i pirati dei Caraibi, e se qui hanno fatto sorcare le navi appunto dell'Iolanda la figlia del corsaro nero, se hanno portato Adam e Eva nel paradiso terrestre, oppure se hanno fatto correre la macchina di Gasman del sorpasso, evidentemente ci sarà un motivo, se la grande guerra qui finisce la sua drammatica storia con delle bellissime scene, ci sarà un motivo. E quindi vorrei che la Dispoli diventasse per un po' di tempo ricordarsi di essere stato un set cinematografico. Se lei fosse un regista, oggi quale c'è anche girerebbe? Noi questa mattina abbiamo proiettato un film di Pietro Germi nel 1956, si chiama Il Cammino della Speranza, e racconta la storia degli italiani che emigravano in Francia illegalmente, drammaticamente, e qualcuno di loro moriva anche in questo passare le Alpi clandestinamente. Quando abbiamo finito, abbiamo chiesto se c'erano domande, una ragazza di 16 anni si è alzata, ha cominciato il suo intervento, ha detto io non sono italiana, ma lo diceva in un perfetto italiano, poi non è riuscita ad andare avanti, si è commossa per un po'. Poi l'applauso dei suoi amici, compagni di classe è riuscita ad andare avanti, lei dice io sono albanese, sono venuta qui quando ero piccolina, mio padre stava già qui, noi abbiamo fatto un viaggio avventuroso, potevamo morire come sono morti quegli italiani che nel 1956 cercano di andare in Francia, però sono cresciuta qui, mi sento italiana, io sento di aver trovato il posto giusto. Ecco, vorrei far raccontare a una ragazza di 16 anni che viene dall'Albania e che dice sono italiana, Ladispoli, vorrei far raccontare a loro, perché forse è un modo diverso di vederla. Ladispoli, immagini e racconti, è l'essenza di una città, è lo spazio e il tempo racchiusi tra le pagine di un libro che narra la storia di una piccola stazione balneare, ormai diminuendo il luogo delle centri identità.